Un patto per la scuola firmato a Palazzo Chigi, la scuola torna al centro, quali sono stati i punti più importanti che avete messo in cantiere? Sicuramente ci sono dei punti importanti contemplati nel patto, si parla di edilizia scolastica che ci riguarda in maniera particolare, il reclutamento. Noi chiediamo che sia un reclutamento veramente veloce perché vogliamo che siano messi in cattedra dal primo di settembre 2021 i docenti e anche il personale ATA. Ci teniamo che parta bene quest'anno e che lo scorrimento sia veloce, che contempli veramente una determinazione chiara di un concorso questo scorrimento di titoli e velocizziamo. Ma c'è anche una scuola verde di cui avete parlato? Certo che c'è la scuola verde. E in cosa consiste? Come sarà questa scuola verde? Beh, una scuola, ecco il verde già ci fa pensare alla speranza, un'apertura, una collaborazione, una scuola che preveda delle iniziative nuove, che mette in campo tutte delle energie per poter anche cercare di recuperare ciò che si è perso.